video personalizzato velocissimo richiesto da Antonella che mi chiede se quando si fa attività fisica la pelle va struccata oppure no allora teoricamente quando noi facciamo attività fisica rilasciamo sudore che dovrebbe in qualche modo buttare fuori tutte le tossine che abbiamo e le schifezze tramite i pori se i pori sono struiti per causa del make up o perché non ci siamo detersi al viso magari con uno scrub quindi permettendo alla pelle di buttare fuori le tossine ovviamente si possono creare sia brufoli che punti neri quindi il mio consiglio è quello prima di fare attività fisica e dopo averla fatta di utilizzare un detergente scrabbante prima e dopo in questo modo andrai a liberare i pori che butteranno fuori tutte le tossine e soprattutto eviterai di avere i brufoli perché spesso mi è stato anche chiesto come mai escono i brufoli quando facciamo attività fisica perché in quel punto la pelle era ostruita quindi non riuscendo a fuoriuscire il sebo in eccesso si è intrappolato nella pelle è importantissimo quindi fare uno scrub questo vale anche per il corpo niente un bacione spero di essere stata utile e noi ci vediamo nel prossimo video ciao